ben ritrovati ben ritrovati agli sportivi giallo blu una conferenza stampa la prima ufficiale di questa stagione per presentare il primo nuovo acquisto della fermana ovvero Davide Mordini lo avremo tra poco con noi intanto salutiamo i rappresentanti della carta stampata iniziamo da Mauro Nucci del resto del Carlino buongiorno a tutti Lorenzo Torresi Corriere Atriatico buongiorno e Paolo Gaudenzi Cronache Fermane buongiorno allora andiamo subito con il nostro ospite ve lo mando in diretta e aspetterà a voi dare lui il benvenuto si tratta di Davide Mordini ormai i nostri tifosi lo conoscono perché lo abbiamo già presentato e arriva dalla Fera Chisalò tra l'altro è un marchigiano d'occhio perché è di Porto Recanati quindi ben ritrovato nella sua regione benvenuto Davide Mordini a voi colleghi liberamente le domande e noi siamo qui ad attendere le vostre le vostre questioni rispetto a Davide a voi parto io? vai Mauro bene allora intanto ecco benvenuto alla Fermana la domanda che ti faccio è questa arrivi da una realtà diciamo strutturalmente molto importante che punta sempre molto in alto qui la Fermana non è che sia una squadra secondaria però il budget è il budget è inferiore e quindi ci sarà probabilmente da soffrire sia per conquistare il posto in squadra ma soprattutto per ottenere dei risultati importanti ecco come ti cali nella realtà canarina un attimo se puoi ripetere la domanda perché adesso le inizio a sentire no dicevo che arrivi mi ascolti adesso? si adesso mi ascolti Davide? si 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 bene dicevo semplicemente proprio la stringo la domanda no? arrivi da una realtà importante una società strutturata ehm qui alla Fermana non è che trovi niente di particolarmente diverso però il budget è sicuramente nettamente inferiore e quindi ci sarà da soffrire sia per ottenere risultati ma anche per ottenere un posto in squadra ecco come ti cali nella nuova realtà? beh cioè ma sicuramente a me ha fatto molto piacere perché sono stato chiamato dalla società e quindi vuol dire che credono in me poi per quanto riguarda il campionato so benissimo che saranno due campionati diversi però comunque credo che la Fermana oltre alla salvezza sia anche ambiziosa quindi va bene la salvezza ma punteremo anche a qualcos'altro e niente l'importante è che poi io ci metto del mio insomma comunque la fiducia la sento quindi mi hanno fatto sentire un giocatore importante e sono pronto a giocarmi il posto bene andate ragazzi niente con quale spirito da marchigiano arrivi in una squadra marchigiana in un campionato dc che di squadre marchigiane ce ne avrà tante è più bello anche per te senti male a scatto provo a mettere le cuffie mi senti? prova con le cuffie no io ti sento benissimo comunque sì sì no io stavo sentendo adesso ti sento anch'io mi senti ora? mi senti meglio? ora non sento proviamo a rifare il collegamento un attimo con con Davide e vi rimetto subito in linea c'è stato subito un vuoto di connessione proprio in questa zona e per pochi secondi sento solo a te non ce lo abbiamo nemmeno in video eh Roby tra due minuti saremo di nuovo online grazie grazie